Educare alla decrescita discorrendo con Serge Latouche, il grande economista francese e filosofo della decrescita, ospite di un convegno alla Facoltà di Scienze Umane dell'Università dell'Aquila. Posti in piedi per ascoltare l'intellettuale di fama mondiale sul macro tema della decrescita che la nostra conduzione attuale, locale e globale rende oltremodo urgente e necessario, consentendoci di riflettere sulla possibilità di una visione alternativa, divergente da quella che vediamo. L'incontro è stato introdotto e coordinato dalla dottoressa Silvia Nanni, docente di pedagogia dell'inclusione e formazione degli adulti presso il Dipartimento di Scienze Umane, coadiuvato dal professor Marco Antonio D'Arcangeli, docente di pedagogia generale e storia dell'educazione presso lo stesso Dipartimento. Tra i relatori anche i professori Massimo Fusillo e Luigi Gaffori. Serge Latouche sostiene che lo sviluppo scelto dall'Occidente e basato su un capitalismo e consumismo sfrenati ha ormai esaurito tutte le sue possibilità, dilapidando in modo irreversibile risorse naturali non rinnovabili. Auspica quindi l'adozione di scelte mirate a costruire una società non ossessionata dal consumismo e libera dalle imposizioni della globalizzazione finanziaria priva di regole etiche. Senza immaginare una regressione o un impoverimento, Latouche descrive la possibilità concreta di una felicità sociale slegata dal possesso e dal consumismo dei beni materiali e misurata invece sul perseguimento del bene comune, sul rispetto della natura, sull'aduzione di forme di convivenza ispirate alla ragionevolezza. Ecco spiegato perché Latouche afferma che scegliere l'alternativa decrescente può essere una possibilità di vita nuova e diversa. La decrescita è scelta di qualità, libertà e autonomia. L'uomo della società della decrescita torna a essere il padrone della propria vita, un'utopia concreta, come ama da sempre definirla, il prestigioso intellettuale.